E' la voce del Signor, ho nel cuore una melodia, una melodia piena d'armonia, ho nel cuore una melodia, è la voce del Signor. Amen. Alleluia. Primo Libro dei Re, capitolo 13, leggeremo dal verso 11 fino al verso 26. Alleluia. La parola di Dio benedica i nostri cuori. Alleluia. E' la parola di Dio. E' la parola di Dio. E' la parola di Dio. Ma egli rispose, E' la parola di Dio. 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 Udito ciò, disse, E' l'uomo di Dio che è stato ribelle all'ordine del Signore. Perciò il Signore l'ha dato in balia di un leone che l'ha sbranato e ucciso, secondo la parola che il Signore gli aveva detta. Amèn. Fin qui la lettura della parola di Dio. Accomodatevi. E' indubbio che il passo biblico che abbiamo appena letto questa sera fa parte di quella categoria dei testi biblici che sicuramente ci lasciano un po' fra virgolette inquieti. Perché intanto descrive un evento tragico, non positivo, ma anche perché, non so voi, ma a prima impressione sembra quasi che Dio in qualche modo abbia esagerato. In qualche modo la sorte di questo uomo di Dio sembra un po' esagerata rispetto alla sua disubbidienza. Non so voi. Ma sembra veramente che Dio appaia molto, molto severo. Un po' come se in qualche modo a volte capita, no? Non so voi, ma anche coi figli uno perde, diciamo sì, quel controllo. Non vi capita mai, beati voi. Quel controllo. E quindi magari forse la punizione un po' eccede. Non so, forse anche il tono di voce è un po' più alto del solito. E così via. Io credo che Dio non perda mai il controllo. Anche quando esercita il suo giudizio. Dio non esagera mai. Quindi il suo agire è sempre perfetto. Lo crediamo questa sera? Perché sicuramente forse a noi può sembrare un po' eccessivo il giudizio di Dio su questo uomo, ma se facciamo attenzione insieme questa sera ci accorgiamo che quello che Dio fece in quel giorno, il suo giudizio, era dovuto a qualcosa che Dio voleva che si evidenziasse. E cioè che la sua parola è sempre la stessa. Che la sua parola è perfetta. Che la sua parola è qualcosa che il credente deve tenere in massima considerazione. perché Dio non sprega nessuna parola. Perché Dio non butta le sue parole lì così, tanto per dire qualcosa, ma ogni parola di Dio, dice la scrittura, è raffinata col fuoco. È perfetta, è pura. Amén. E questa sera proprio su questo vogliamo soffermarci, meditare, proprio su come questa parola, in questa circostanza, viene messa in evidenza, viene onorata da Dio, viene, diciamo sì, tenuta da Dio in quella santità che Dio desidera che anche il credente, diciamo sì, la tenga in considerazione. Dio aveva benedetto quest'uomo, l'uomo di Dio, l'aveva chiamato da Giuda per andare appunto lì a Betel, per essere anche usato da Dio in modo potente, per richiamare il popolo di Dio a quella che era la volontà di Dio, la verità, e Dio onora anche quest'uomo, vediamo che Dio lo usa anche in un'opera prodigiosa, leggiamo qui quando Geroboamo stese la mano per, in qualche modo, colpire il profeta per farlo prigioniero, dice che la scrittura, allora il re si rivolse, disse pigliatelo, stese la mano dall'alto dell'altare, disse pigliatelo, ma la mano che Geroboamo aveva stesa contro di lui rimase paralizzata e non poteva più tirarla indietro. L'altare si spaccò, secondo anche la parola del profeta, e la cenere che vi era sopra si disperse, secondo il segno che l'uomo di Dio aveva dato per ordine al Signore. Allora il re si rivolse all'uomo di Dio e gli disse, ti prego, implora la grazia del Signore, del tuo Dio, e prega per me affinché mi sia resa la mano. E l'uomo di Dio implorò la grazia del Signore, il re riebbe la sua mano e che tornò come era prima. Il re disse all'uomo di Dio, vieni con me a casa, ti ristorerai e io ti farò un regalo. Ma l'uomo di Dio rispose al re, anche se tu mi dessi la metà della tua casa, io non entrerò da te e non mangerò pane e berrò acqua in questo luogo, perché questo è l'ordine che mi è stato dato dal Signore. Tu non vi mangerai né pane, né berrai acqua, e non tornerai per la strada che avrai fatto all'andata. Così egli se ne andò per un'altra strada e non tornò per quella che aveva fatta venendo a Betel. E fin qui tutto va bene. Quello che era accaduto, abbiamo letto, giunse all'orecchio di questo vecchio profeta che abitava a Betel, che ebbe l'idea di inseguire questo uomo di Dio, raggiungerlo e convincerlo a restare con lui in casa sua e mangiare con lui. Quello che sorprende, innanzitutto, di questo testo biblico è che questo vecchio profeta riesce a raggiungere l'uomo di Dio. Perché riesce a raggiungerlo? Perché l'uomo di Dio si era fermato lungo la via sotto il Terebinto. Infatti, quando arriva, lo trova seduto lì, in quel luogo. Fratelli e sorelle, Dio desidera che noi come credenti, quando Dio ci parla, a volte, fratelli e sorelle, prima di attuare, mettere in pratica la poedio, dovremmo percepire, comprendere l'urgenza della parola di Dio. Dio, quando parla, comunica anche l'urgenza. Dio comunica che la sua parola, che raggiunge il nostro cuore, non può essere presa, diciamo così, un po' così, alla leggera o sottovalutata. Ma quando Dio parla, Dio, appunto, ci comunica quasi un appello accorato. Non so se è capitato. Quando Dio ci ha parlato, quando Dio ci ha fatto comprendere, mediante la sua parola, qualcosa, ci ha fatto capire la sua volontà qual era, e Dio desidera che noi prendiamo la sua parola come un'urgenza. Vi capita, no? Che c'è qualcosa che bisogna fare, c'è qualcosa che bisogna, insomma, adempiere, ci viene comunicato, bisogna fare questo, fare quest'altro. E a volte ci viene comunicato anche l'urgenza di fare quella cosa, di non perdere tempo, di non aspettare tempo, di non soffermarsi su altre cose, ma di concentrarsi soltanto su quello che bisogna fare. C'è l'urgenza. E fratelli e sorelle, Dio desidera che quando Egli parla al nostro cuore, quando noi ascoltiamo, riceviamo la sua parola, che noi possiamo davvero capire l'urgenza per quale Dio parla. O Dio desidera che veramente noi come credenti possiamo davvero in un modo quasi con zelo, afferrare, ricevere la sua parola. Questo uomo, purtroppo, uomo di Dio, sì, aveva ascoltato, aveva obbedito, aveva anche adempiuto, Dio si era usato di lui, però il fatto che si ferma lungo la stata, il fatto che il vecchio profeta riesce a raggiungerlo, sembra quasi che in qualche modo non abbia capito il perché, Dio dice, guarda, da qui devi scappare subito. Da qui, qui non puoi fermarti neanche un attimo. Qui non puoi induggere neanche un attimo. La parola che ti ho dato non deve trovarsi neanche un istante in più in questo luogo. Devi lasciare questo luogo in modo immediato. E, fratelli e sorelle, è importante, è importante, io credo, fratelli, sapete, molti problemi nascono nella vita dei credenti perché innanzitutto non si comprende l'urgenza della parola di Dio. Dio, quando dice qualcosa, o lo dice perché Egli vuole che noi veramente, in un modo accorato, in un modo quasi, anche perché la parola di Dio, quando parla, ha lo scopo di risvegliarci, di scuoterci, di, in qualche modo, scuoterci a volte da quella apatia, da quella, così, un po' indolenza. Dio parla e ci fa comprendere, guarda che non puoi più perdere tempo, guarda che non puoi più fermarti, guarda che non puoi più, in qualche modo, indugiare, o, quando Dio parla, ci fa capire il suo appello, un appello di urgenza, l'urgenza di cercare il Signore, l'urgenza di santificarsi, l'urgenza di leggere la sua parola, l'urgenza di servire il Signore. E in questi tempi, credo che il Signore ci faccia comprendere ancora di più che c'è urgenza. Amen. Che non si può più attendere, aspettare, indugiare, fermarsi lungo la strada, anche per un attimo. In realtà, fino a qui, il profeta non ha fatto nulla, diciamo, apparentemente di sbagliato, ma il semplice fatto, che il vecchio profeta riesce a raggiungerlo. O il Signore voleva che quest'uomo prendesse veramente la sua strada e velocemente lasciasse quel luogo. Perché è Dio che conosce ogni cosa. Lo crediamo che Dio conosce ogni cosa. Dio, quando parla, non parla tanto per parlare. Dio sapeva benissimo che c'era quest'altro uomo che pensava di convincere il profeta, appunto, di fermarsi. Dio non voleva che quella parola che aveva pronunciato lì l'uomo di Dio o in qualche modo potesse, diciamo, rimanere in quel contesto. Dio voleva che quella parola fosse distinta, separata da quel contesto. Che era un contesto ormai di ribellione a Dio, che era ormai un contesto di apostasia. O il fatto che Dio dice al profeta di lasciare immediatamente quel luogo e di non ritornare sulla stessa strada, ma di prendere un'altra strada. Perché dice di prendere un'altra strada? Perché, appunto, il profeta non doveva incontrare nessuno. Doveva lasciare quel luogo in modo veloce. Non doveva essere più, diciamo, rintracciato per certi versi. Occorreva che davvero il profeta la sua presenza, la sua venuta fosse una presenza che facesse comprendere che Dio ha mandato la sua parola, ma che quella parola non aveva nessuna attinenza al contesto dove era stata pronunciata. Perché, appunto, quella parola rappresentava quella che era la santità di Dio. Ma quest'uomo, vediamo che purtroppo, non capisce l'urgenza di quella parola, di quell'ordine. O è stato sollecito nel portare il messaggio, è stato sollecito, vediamolo zero, nel pronunciare quello che era, appunto, il giudizio di Dio su quell'altare di Betel, però sottovaluta l'ordine di Dio di lasciare immediatamente quel luogo, di non fermarsi lungo la strada. Signore, aiutaci. Amen. Amen. Signore, in questi tempi così particolari, e io credo, lo ripeto ancora una volta, stiamo vivendo tempi particolari, tempi difficili, dal punto di vista spirituale, e Dio sta rivolgendo un appello urgente. Amen. Un appello urgente. Non possiamo più indugiare, non puoi più indugiare a un certo tipo di andazzo, un certo tipo di vita spirituale. Bisogna, in qualche modo, prendere la poe di Dio, gli appelli che essa rivolge al nostro cuore di un risveglio, di una consagrazione maggiore, di un servizio più dedicato, o non possiamo più sottovalutare. Ma c'è un appello urgente. Signore, oh, aiuta il mio cuore a essere sensibile a questo appello urgente. Perché se c'è l'urgenza, se comprendiamo l'urgenza, non c'è il rischio che nessun falso profeta ci raggiunga. Falso profeta intendo altre voci, altri pensieri che possono distoglierci da quella che è la volontà di Dio per la nostra vita. La seconda cosa di questo testo della scrittura è che appunto Dio ecco perché interviene in modo così severo. Ecco perché si usa il termine quest'uomo fu ribelle. Mamma mia, ribelle. Sembra esagerato. Ma il suo essere ribelle è proprio il fatto che egli non capisce l'urgenza di quel comando. Sottovaluta in questo senso il comando del Signore. E poi un'altra cosa, un'altra cosa. quest'uomo purtroppo come mai si fa convincere dal vecchio profeta. Non ha ancora capito che quando Dio dice una cosa è quella. Dio non cambia idea. La parola di Dio è la stessa. ieri, oggi, è in eterno. Quello che Dio ha detto prima vale anche dopo. E non c'è niente, nessuno che può, diciamo, si alterare la volontà di Dio. Dio non cambia idea. E fratelli e sorelle vi dico qualcosa, a me stesso lo diciamo ancora questa sera. Quello che Dio ha detto nella sua parola nell'Antico Testamento parliamo appunto di quei principi spirituali che riguardano anche la vita morale e sociale del credente, il suo essere di testimonianza in ogni aspetto, quello che Dio dice nel Nuovo Testamento. Fratelli e sorelle, questa sera lo ribadiamo, Dio non ha cambiato idea. Amen? Dio non ha cambiato idea. Sono tempi difficili questi. Tempi in qualche modo dove c'è quasi così l'incentivo, l'obiettivo di far credere che il Signore possa modificare diciamo sì i suoi pensieri, la sua idea circa i principi che lui stesso ha stabilito. Ma non è così, fratelli, non è così. Gesù disse cielo e terra passeranno ma le mie parole non verranno meno. Neanche uno iota verrà meno. Amen? Quello che Dio dice, sapete, la parola di Dio è tutta ispirata. Qualcuno ha detto Amen? La parola di Dio è tutta quanta ispirata. Non soltanto in quelle cose che a noi sembrano fondamentali ma anche in quelle cose che in realtà apparentemente a noi sembrano secondarie. Certamente rispetto ad alcune cose certamente diciamo sì hanno diciamo sì una una posizione diversa. Però fratelli e sorelle noi crediamo che quello che Dio dice vale per sempre. Era ispirato non soltanto il messaggio che il profeta doveva pronunciare contro l'altare contro appunto quel luogo ma era anche ispirato il messaggio l'ordine che Dio gli aveva dato di non fermarsi in quel luogo. E quando il vecchio profeta che mentiva mentiva gli disse guarda è vero Dio ti ha detto questo ma un angelo dell'eterno mi ha detto una cosa diversa che Dio come se Dio avesse cambiato idea in corso d'opera no? In qualche modo mentre fai il viaggio Dio ci ha ripensato sì forse si è accorto che era un po' esagerato quell'ordine addirittura non puoi mangiare e non puoi bere in questo luogo non puoi fare neanche non sono spuntino infatti io mi sono chiesto ma perché si era fermato? Perché si era fermato visto che non doveva mangiare né bere in quel luogo? Signore aiutaci sono tempi questi in cui ora più che mai dobbiamo credere che la poi Dio è ispirata nella sua completezza e questi sono tempi in cui dobbiamo dire Signore aiutami a mettere in pratica la tua parola anche nelle piccole cose lo crediamo? forse questo potrà sembrare ad alcuni esagerato potrà sembrare forse ad alcuni eccessivo o forse un tempo fa qualcuno mi diceva ma fratello ora non sto dicendo di quelle cose che ci inventiamo noi di quei principi morali che molte volte noi mettiamo noi e noi aggiungiamo la parola di Dio amén io sto parlando di ciò che è scritto di ciò che è scritturale non di quegli usi e costumi che dice Paolo alcune cose hanno una buona reputazione di quello per quanto riguarda trattare il corpo diciamo sì però non hanno nulla di attenente di ciò che è biblico non sto parlando ripeto di cose che ci aggiungiamo noi ma ciò che è biblico è biblico e quando scrittura parla e parla anche di cose diciamo sì di comportamenti parla anche di modo di essere perché scrittura parla di principi parla di principi di onestà parla di principi di sobrietà parla di principi di verecondia di modestia parla anche di queste cose la scrittura o no principi che dobbiamo applicare alla nostra vita al nostro modo di essere di vivere di agire anche in quelle cose la parola di Dio è ispirata anche in quelle cose Dio desidera che noi ubbidiamo alla sua parola o vediamo purtroppo quest'uomo di Dio in qualche modo si fa convincere perché ritiene probabilmente nella sua testa che quell'ordine era secondario e quindi pensa che lì Dio possa cambiare idea ecco perché Dio invece interviene con la sua severità perché la sua parola è tutta quanta santa lo crediamo questa sera e tutta quanta santa la sua parola Signore aiuta ci a volte dobbiamo guardare dentro i nostri cuori quando cominciamo a fare distinzione e quando anche in volte in modo impercettibile cominciamo a essere più indulgenti verso anche noi stessi riguardo ad alcune cose che la Bibbia dice perché in fondo in fondo in fondo e poi neanche tanto in fondo li riteniamo secondari Alleluia quindi quest'uomo non comprende l'urgenza di quell'ordine pensa che quell'ordine sia secondario rispetto a quello che aveva ricevuto riguardo al messaggio e poi un'altra cosa che purtroppo quest'uomo sottovaluta è che quel suo modo di fare avrebbe poi anche svalutato quello che egli aveva detto precedentemente perché lo aveva detto ci avete fatto caso lì eh Dio lo sta onorando lo sta benedicendo quando il re gli dice fermati fermati lui dice no non posso fermarmi perché Dio mi ha detto di non fermarmi e quella parola aveva la sua autorità amèn o per quella stessa parola l'altare si era spezzato per quella stessa parola il re la mano del re si era paralizzata per quella stessa parola quella mano si era stata guarita e quella parola riguardava anche l'ordine di non fermarsi e lui l'aveva testimoniato l'aveva detto adesso si comporta in modo diverso di quello che ha detto agisce in modo diverso di come egli aveva predicato possiamo dire questa sera e questo avrebbe svalutato anche quello che aveva detto in precedenza amèn ecco perché Dio è severo perché a volte i nostri comportamenti le nostre disobbedienze anche quelle piccole possono svalutare eh le cose che Dio ha onorato nella nostra vita Signore aiutami a onorare sempre la Tua parola amèn molte volte cantiamo onoriamo la parola del Vangelo noi pensiamo di onorarla soltanto nelle cose importanti pensiamo che dobbiamo onorarla soltanto qui in questo luogo ma Dio ci chiama a onorarla uscendo da questo luogo nelle nostre case a volte basta poco basta una testimonia anche nelle piccole cose e magari forse abbiamo testimoniato poco prima qualcuno e poco dopo il nostro comportamento in casa è diverso da quello che abbiamo detto e quel comportamento svaluta quello che abbiamo detto in precedenza amèn amèn quel comportamento del profeta stava svalutando ecco perché Dio dovette onorare la sua parola Dio doveva fargli capire non soltanto a lui ma anche agli altri che quello che Dio dice è santo e puro amèn e che non possiamo prendere la sua parola così signore aiutaci a onorare la tua parola lo vogliamo fratelli e sorelle Dio ci tiene la sua parola o quello che Dio dice veramente riflette quella che è la sua natura il suo essere ora comprendiamo perché Dio fu così apparentemente sembra severo Dio dovette farlo perché era in gioco era in gioco in quella circostanza in quella situazione riguardo il comportamento del profeta era in gioco la testimonianza l'onore della sua parola e quindi Dio dovette intervenire con quel giudizio infatti il vecchio profeta comprende tutto poi capisce infatti poi dice seppellitemi presso quando morirò e gli fece questo monumento no seppelli il profeta l'uomo di Dio dice seppellitemi perché quello che lui ha detto si adempirà perché Dio ha onorato la sua parola Signore fa che veramente la tua parola possa operare potentemente i nostri cuori e fa che essa sia onorata nella nostra vita Amen se questa sera Dio ancora volta ti fa comprendere l'urgenza Dio ti ha parlato ti sta parlando ti sta dicendo guarda è urgente è urgente che tu torni a me è urgente che tu ti consacri a me è urgente che tu cerchi la mia faccia è urgente non fermarti per strada non fermarti lungo il sentiero ma corri 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 perché è urgente Signore risvegli i nostri cuori in questi tempi non so credo sento di fare questa preghiera Signore risvegliaci in questi tempi risvegliaci fa che il tuo popolo torni a comprendere l'urgenza della tua parola che quando parli non parli tanto per parlare ma se mandi la tua parola è perché tu vuoi che noi la prendiamo con urgenza perché non c'è più tempo e il Signore desidera anche che noi comprendiamo che quello che Lui ha detto vale per sempre Amen Signore vogliamo tornare a essere ubbidienti alla tua parola anche nelle piccole cose perché anche in quelle piccole cose c'è la tua volontà forse stiamo trascurando qualcosa non lo so possibile che Dio ci tenga anche lì sì Dio ci tiene anche lì ci tiene anche lì il Signore ci tiene che tu metta in pratica io metto in pratica la sua parola anche nelle piccole cose Signore aiutami a farlo perché no aiutami a essere anche attento alle piccole cose dammi questo zelo di ubbidire a te anche nelle piccole cose risvegliami in questo Signore e Signore fa che il mio comportamento il mio modo di agire non svaluti la tua parola anzi io che posso onorarla in modo Signore che chi la riceve mediante me la mia testimonianza possa capire bene che questa è la tua parola vogliamo alzarci in piedi Alleluia gloria a te Signore benedetto il tuo nome gloria a te Gesù Alleluia io penso che possiamo cantare quel cantico onoriamo la parola del Vangelo Alleluia gloria a te vogliamo onorarla vogliamo pregare che Dio ci aiuti a onorarla iniziando dalle nostre case nelle nostre famiglie a volte una parola sbagliata può guastare tante cose Signore lavaci col tuo sangue purifica la nostra mente i nostri cuori Alleluia gloria a te Signore onoriamo la parola del Vangelo a te a te Grazie a tutti. Grazie a tutti.